Siamo sul passo Cason di Lanza, siamo saliti qua da Paolaro, siamo in Carnia, salita molto dura, con strappi anche al 16%, per fortuna qualche possibilità di prendere un po' il fiato e respirare. La giornata non è delle migliori, tra la pioggia e l'umidità, si suda molto e spesso si è molto umidi. Adesso mi preparo a fare la discesa, è già quasi asciutta la maglia, il che non è male. Auguro a tutti voi mille di queste salite e di questi giorni con i vostri più cari amici. Ciao ciao!